I'll be out too late Fabio Massimo Castaldo, buongiorno, Europa Ravantale Movimento 5 Stelle Io citavo prima l'intervista ad Ambroso Lui sottolinea anche il fatto che c'è una legge in Commissione Affari Costituzionali che mira alla deradicalizzazione, no? E però chiedo anche a lei se siamo attrezzati, insomma, da un punto di vista legislativo Secondo me, sì, siamo comunque un paese che viene fuori da anni difficili sul fronte anche del terrorismo in passato e questa expertise accumulata ci consente in qualche modo di essere più pronti rispetto a tanti altri paesi europei l'abbiamo dimostrato in qualche modo anche nel corso di questi anni non bisogna abbassare la guardia perché se vogliamo entrare in un'ottica di lotta alla radicalizzazione ovviamente i sentieri tracciati e i temi toccati da quella legge sono fondamentali io conosco molto bene la realtà francese perché ho vissuto due anni in Francia per studio ovviamente lì c'è stata e c'è ancora una sorta di razzismo latente molto forte di conflitto sociale forte che viene però mascherato formalmente da un grande rispetto reciproco e questo ha portato alla creazione di veri e propri ghetti io ho vissuto a Parigi ci sono delle valure nelle quali bene o male c'è una massiccia enorme quasi totalmente preponderante presenza solamente di persone che hanno magari origine nordafricane o comunque che sono di religione islamica questa divisione a ghetti è poi quella che più facilmente può portare a una sorta di risentimento di rancore sociale non è l'unico motivo che può spiegare poi il fenomeno della radicalizzazione molto spesso anzi è capitato di vedere persone anche di origini assolutamente italiane, europee o comunque dei nostri paesi occidentali decidere in un certo momento della vita di cambiare completamente la propria religione e magari poi a un certo punto abbracciare anche la via dell'integralismo questo perché è un messaggio quello integralista molto forte sul piano valoriale mi spiego, dà delle coordinate molto semplici su che cosa è giusto e cosa è sbagliato su cosa è bianco e cosa è nero e per soggetti un po' borderline che non si identificano in qualche modo con i valori della nostra società questo messaggio fa veramente molta presa e diventa in qualche modo un punto di riferimento come si combatte? come l'abbiamo detto, nelle scuole è fondamentale quindi soprattutto per i ragazzi giovani invece avere un dialogo importante lavorando con le comunità islamiche smettiamola con questo messaggio del dire l'islam buono e l'islam cattivo oppure dire l'islam moderato, l'islam integralista probabilmente l'unico vero islam è quello con cui abbiamo a che fare normalmente l'integralismo è un'altra cosa diciamolo bene e soprattutto evitiamo che le prigioni diventino l'università del crimine dell'integralismo spesso e ce lo dice anche la cronaca in particolare in Francia molti degli attentatori hanno avuto passaggi anche per reati abbastanza banali non così pericolosi dal punto di vista sociale all'interno delle prigioni lì hanno incontrato dei predicatori, degli imam che gli hanno spinto questo lo sottolineava prima purgatori sul piano delle soluzioni esterne perché prima mi ero focalizzato più su quelle interne la politica estera è fondamentale io faccio una domanda, come mai il califato proprio a Sirte si è radicato? si è radicato a Sirte perché Sirte era la città natale di Gheddafi e le tribù di Sirte sono state poi completamente escluse dal processo di riconciliazione nazionale e dalla creazione del nuovo Stato, come è accaduta in Iraq esattamente per questo stesso motivo tutte queste scelte sciocche che non vanno poi nel senso ragionevole invece di garantire maggiore stabilità ma che portano a maggiore instabilità aumentano il rischio perché aumentano le capacità operative di questi soggetti